Nonostante le numerose operazioni antimafia che ne hanno colpito la struttura, la criminalità lucana tende a rigenerarsi, si legge nel report della DIA, grazie ad un'intensa attività di proselitismo. Nel metà pontino, oltre alla droga, sono emersi nel tempo diversi tentativi di condizionamento della pubblica amministrazione. Solo a maggio scorso il comune di Scanzano ha eletto un nuovo governo cittadino dopo diversi anni di commissariamento a seguito dello scioglimento per mafia. Tra Potenza e l'Interland, invece, gli investigatori segnalano infiltrazioni nel tessuto civile, stupefacenti, usure ed estorsioni. Nell'area nord della regione, l'aperta conflittualità tra famiglie storiche. Il Lago Negrese, anche per la posizione, appare sensibile alle infiltrazioni delle più potenti organizzazioni campane e calabresi. Sul fronte del riciclaggio, circa 1.600 le operazioni sospette. Quanto al contrasto, alle numerose operazioni si affiancano le interdittive dei prefetti. In un anno sono raddoppiate.